E' un incontro che mi offre tanti spunti di riflessione, tanti elementi di riflessione, anche perché mi è stato presentato formalmente il Manifesto del Mezzogiorno. Così il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha esordito nel suo discorso al Teatro dei Berardinis venerdì scorso a Vallo della Lucania in occasione della consegna formale del Manifesto del Mezzogiorno. Importanti sono state le prime dichiarazioni del Presidente Conte e importante è stato il suo approccio con le persone presenti, un uomo molto cordiale pronto ad ascoltare la voce degli amministratori del Cilento e del Ballo di Viano. Sono occasioni preziose, perché raccogliere le vostre stanze, sentire anche nell'arco breve di un incontro che dura solo qualche ora, raccogliere direttamente le vostre sensibilità, avere l'occasione di discutere con voi questo Manifesto del Mezzogiorno mi consente poi di acquisire ulteriori valutazioni, elementi di valutazione, in questa fase particolare in cui siamo nella dirittura finale dell'approvazione della manovra finanziaria, ma anche, lo anticipo subito, siamo nella fase in cui stiamo mettendo a punto anche il piano strutturale per il Sud. Quindi, momento migliore non poteva essere. Ma ci ritorno ad oltre a breve. Lo spirito del Manifesto mi sembra in piena armonia con il complesso di interventi che il Governo ha messo già e sta mettendo a punto per far sì che il nostro Mezzogiorno torni a fiorire, creando nuove opportunità di lavoro e di sviluppo. Io sono profondamente convinto, e su questo vi posso assicurare che ho trovato piena consonanza in tutte le componenti di Governo, che abbattere i divari territoriali tra Nord e Sud, fra aree urbane e poi aree interne, non risponda esclusivamente a una logica di equità, di corretta redistribuzione delle risorse fra i territori. Riportare il Mezzogiorno su una traiettoria di crescita sostenuta è una condizione irrinunciabile per garantire anche lo sviluppo economico dell'intero nostro Paese. L'ho detto già, e non è un semplice slogan, ma nasconde una profonda e radicata convinzione. Se riparte il Sud, riparte l'Italia intera. Ed è con questo spirito, con questa convinzione, che muoviamo e ci disponiamo a realizzare l'agenda di governo sul tema della coesione nazionale. Si è parlato anche del problema dello spopolamento nel Cilento. Dobbiamo insistere, ha dichiarato il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano, questa problematica deve diventare un tema importante dell'agenda politica. Una visita importante perché questo dimostra la vicinanza, la sensibilità di un'autorità, quale è quella del Presidente del Consiglio, ad alcuni temi che noi stiamo portando avanti da un po' di tempo, che sono quelli sullo spopolamento e sulle aree urale. Il senatore Castillo ha fatto bene con la sua fondazione a fare un testo in cui enumera una serie di soluzioni che si possono trovare a questo problema. Noi in Consiglio regionale, con molta difficoltà, devo dire perché l'orecchio politico non è molto attento all'area urale perché poi esprimono un consenso minimo. Invece dobbiamo insistere su questo tema. Questo deve diventare uno dei temi fondamentali dell'agenda politica, non solo campana, ma nazionale. Bisogna agire sul tema della sburocratizzazione e questa è invece una fra le prime richieste del Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo Didiano e Alburni, Tommaso Pellegrino. Oggi si è emerso un altro tema, che bisogna agire con fretta, con urgenza sul tema della sburocratizzazione. Questo è l'appello che io ho rivolto al Presidente Conte, che devo dire ha accolto e ha anche avuto la possibilità di richiamare nel suo intervento. Ci sono dei primi passi avanti importanti perché dobbiamo sottolineare e vi anticipo che sarà presentata la conferenza stampa col Ministro Costa, sarà fatta nel territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo Didiano e Alburni, dove andremo a presentare l'Ezea. Le zone economiche e ambientali, una fiscalità di vantaggio, non perché chi vive qui è svantaggiato, al contrario, chi investe, cioè quelle aziende, quei giovani che investono sul nostro territorio, avranno una fiscalità di vantaggio, quindi il territorio che diventa opportunità. E di questo ringraziamo il Governo Conte, ringraziamo il Ministro Costa, che ha avuto veramente una grande sensibilità, ma soprattutto lui ha una grande attenzione per quelle che sono le aree protette. Oggi finalmente ci sentiamo un po' più protagonisti rispetto a quello che tante volte succede nel nostro paese, quando si parla dei temi ambientali, si è sempre un po' ressì.